ciao io sto mangiando la gomma e adesso vi farò vedere come si fa questo è come si faceva la bolla tutorial vi piacciono? guardate il velato rosso guardate il velato rosso guardate il velato rosso guardate poveretti adesso vi farò vedere l'ultima gomma e questa è la ultima bolla ciao ciao ad restare c'è bene c'è bene